Ciao ragazzi, questa sera facciamo dei sandwich a base di pane e cassetta fatto in casa, una frettella di pesce, in questo caso delle occhiate pescate in Liguria, e una guarnizione con una maionese mutata sul momento e una foglia di radicchio. Che dire, aspettiamo tempi migliori per fare nuove scorte e nuove ricette. Nel frattempo però andiamo a fare il pane in cassetta che è sicuramente la cosa più complicata. Iniziamo unendo il lievito fresco all'acqua tiepida. Mescolando con una forchetta in modo da sciogliere tutti i possibili grumi e ottenere una miscela omogenea. Ora mettiamo i nostri 500 g di farina nella planetaria e aggiungiamo nell'ordine l'olio di semi, il latte intero o di soia se preferiamo, lo zucchero, non il sale perché a questo stadio interferirebbe con la lievitazione, e infine il lievito disciolto nell'acqua. Adesso apriamo l'impastatrice, inseriamo il gancio e azioniamola a velocità moderata. Quando avremo ottenuto un pre-impasto, uniamo il sale e azioniamola ancora finché l'impasto non tenderà a seguire la spira del gancio. Questo fenomeno si chiama incordatura e segnala che è il momento di fermarsi. A questo punto lasciamo riposare 20 minuti il tutto, poi togliamo l'impasto dal gancio, lavoriamolo bene con le mani finché non è ben liscio e regolare. Alla fine facciamo delle pieghe verso il centro, in modo da direzionare la lievitazione verso i bordi del contenitore. Diamo ora la forma della cassetta e mettiamo a lievitare nel forno spento, ambiente ideale perché l'impasto non si secchi e non sia soggetto a sbalzi di temperatura. Passate le 6 ore di lievitazione, portiamo il forno a 250 gradi e cuociamo il pane una quindicina di minuti a questa temperatura, in modo che faccia la crosta. Poi scendiamo 200 gradi e portiamo a termine la cottura fino al cuore. Affettiamo il pane e mettiamolo da parte. Affettiamo il pane e mettiamolo da parte. Sfilettate e spellate le occhiate, asportiamo le lische dalla parte centrale del filetto. Tagliamo la polpa ottenuta a coltello e mettiamo in un contenitore. Gli scarti verranno usati per la pastura per cefali nella prossima uscita al mare. Ora condiamo con un po' d'olio d'oliva, la scorza del limone grattugiato, il prezzemolo fresco, l'aglio che poi toglieremo, sale e pepe quanto basta e rompiamo un uovo che agirà ad elegante in fase di cottura. In questo caso ho aggiunto una spolverata di pangrattato per arrivare alla consistenza perfetta, che non deve essere né troppo dura né troppo morbida. Mettiamo via l'impasto e facciamole riposare per qualche minuto. Per la frittura scaldiamo l'olio d'oliva in una padella antiaderente. Uniamo l'impasto e diamogli la forma che preferiamo, schiacciandolo un po' in modo che abbia la stessa altezza in ogni sua parte. Facciamo dorare le frittelle come si deve da entrambi i lati e mettiamo ad asciugare su un panno assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Ripetiamo poi il medesimo procedimento per la seconda frittella. Per questo tipo di ricetta preferisco una maionese molto cremosa e la farò quindi usando due tuorli. Separiamoli dagli albumi e mettiamoli in contenitore che abbia una buona profondità. Sbattiamo dapprima le uova qualche secondo da sole. Poi uniamo l'olio gradualmente e montiamo finché il composto non inizierà ad addensarsi visibilmente. Per praticità ho accelerato il processo ma due o tre minuti servono tutti. A questo punto uniamo sale e limone e mescoliamo ancora qualche secondo per rendere tutto omogeneo e cremoso al punto giusto. Poi un po' di posto. bene i nostri sandwich di occhiata sono pronti se questo video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale se vi va e se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo per la prossima puntata nella cucina di dove c'è acquolina